Quando pensiamo all'uomo, pensiamo al luogo in cui si incontrano attitudini, istinti, tensioni e volontà. Raccontare un uomo significa essere pronti ad accogliere la varietà umana e al tempo stesso a saperne ricavare significati comuni. Otto personaggi, otto strade per ispirarci e non dimenticare. Cerca otto storie, racconti per un mondo migliore, sulla tua app di podcast preferita. Buongiorno e benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. Come ogni trimestre, facciamo il punto della situazione e verifichiamo quelli che sono stati gli andamenti dei vari mercati e dei vari asset finanziari. Partiamo dai mercati azionari. Il Nasdaq ha ottenuto il miglior rendimento in questi sei mesi, più 38,75. Seconda la borsa di Atene, più 37,52. Il Nikkei, più 27. Il Fuzi Mib italiano, più 18,18. L'Ibex in Spagna, più 16. Lo Standard & Poor's 500, più 15. Il Dax in Germania, più 15. Il Cospi, più 15,21. Il CAC, 40, più 14,31. Il Nifty 50 in India, più 5,99. Lo SMI a Zurigo, più 5,13. Il Dow Jones, più 3,66. Il Fuzi 100 a Londra, più 1,29. L'RTS in Russia, più 1,27. Tra i principali mercati, l'unico in negativo, Lansang a Hong Kong, meno 4,37. Passando all'analisi delle materie prime, il gas naturale è aumentato dell'8,57. La soia, più 5,20. Il rame, più 1,69. L'olio combustibile, più 1,25. Il gasolio, più 1,10. Il petrolio Brent, più 1,08. Il petrolio WTI, più 0,99. L'argento, più 0,90. Il platino, più 0,74. L'oro, più 0,60. Il palladio, più 0,21. In negativo, il succo d'arancia, meno 0,46. Il grano, meno 2,72. E il mais, meno 3,80. Per quanto riguarda l'euro, rispetto alle principali valute, si è apprezzato del 12% rispetto allo Yen, del 5,39 rispetto al dollaro neozelandese, del 4,15 rispetto al dollaro australiano, dell'1,92 rispetto al dollaro americano, mentre a perso terreno, rispetto al dollaro canadese, meno 0,27. al franco-svizzero, meno 1,32. E alla sterlina inglese, meno 2,96. Per quanto riguarda il rendimento dei titoli governativi a 10 anni, in Australia il rendimento al 4,07. Austria 3,08. In Francia 3%, il Germania al 2,43. Italia il 4,16. Polonia 5,73. Singapore 3,13. La Spagna 3,43. La Svizzera l'1%. Regno Unito più 4,45. Negli Stati Uniti il 3 giugno a 10 anni, a un rendimento del 3,94%. Lo spread BTP-Bund è a 164,60, da 210,39 a inizio anno. Per quanto riguarda le criptovalute, le prime 10 a livello di capitalizzazione, il Bitcoin è aumentato dell'83,52%, l'Ethereum del 59,60, Tether più 0,03, BNB 0,26, USD Coin invariato, Ripple più 43,93, Cardano più 15,68, Dogecoin più 4,64, Litecoin più 56,14, Solana più 90,98. Come possiamo notare, questa prima metà dell'anno mostra dati in crescita praticamente un po' su tutti i fronti, salvo alcune eccezioni. Questo può lasciare intendere un potenziale miglioramento dei mercati anche nei mesi a venire, nonostante i problemi che stiamo affrontando collegati alla guerra e all'inflazione. Quindi dopo un'annata, definiamola tragica, come lo scorso anno, soprattutto sui mercati obbligazionari con perdite mai viste praticamente in 60-70 anni di storia, i mercati azionari hanno sostanzialmente recuperato tutti ad eccezione di Hong Kong, ancora sui mercati obbligazionari il recupero non è stato così forte anche perché i tassi continuano ad essere più alti. In prospettiva di un calo dell'inflazione e quindi anche quello che potrà essere un rallentamento in merito ai tassi di interesse, probabilmente, non voglio dire, proprio nella seconda parte dell'anno, ma sul finire dell'anno e agli inizi del prossimo anno sicuramente potremo vedere dei miglioramenti anche sul mercato obbligazionario più sensibili. La citazione di oggi è la seguente. Al posto degli uomini abbiamo sostituito i numeri e alla compassione nei confronti delle sofferenze umane abbiamo sostituito l'assillo dei riequilibri contabili. Federico Caffè, rendiamo la finanza amichevole, vi aspetto. Potete ascoltare questo podcast sulle principali piattaforme disponibili. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente Prime ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.